Adottare tutte le buone pratiche per una riduzione della produzione di rifiuti alla fonte. È questo l'appello che arriva da Aise Impianti in vista dell'annunciato stop alla linea di recupero energetico della centrale di San Zeno, ferma da domenica sera per un intervento di manutenzione programmata. La riattivazione è prevista per sabato 9 novembre, ma durante la fermata della linea che recupera gli scherti dei rifiuti non riciclabili, altrimenti è previsto un incremento dei costi necessari al trattamento sia per il trasferimento dei rifiuti verso altri impianti che per l'acquisto di energia dalla rete indispensabile al funzionamento di tutte le altre linee di servizio della raccolta differenziata. Il trasferimento dei rifiuti via gomma causa poi anche un aumento delle emissioni proporzionale alla distanza degli impianti di destinazione. Così l'azienda raccomanda di adottare tutte le buone pratiche per una riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, modificando lo stile di vita al fine di limitare per quanto possibile la necessità di ricorrere al trasporto verso altri impianti. A breve, infine, sarà proprio l'impianto di San Zeno ad ospitare la seduta aperta del Consiglio Comunale dedicata all'ampliamento del termo valorizzatore, una decisione che ha sollevato non poche polemiche politiche riguardo all'opportunità della location scelta.